C'è forse un sentimento più acuto della curiosità nella donna? Oh, sapere, conoscere, toccare ciò che si è sognato. Che cosa non farebbe per questo? Una donna, quando la sua impaziente curiosità è stimolata, commetterà tutte le pazzie, tutte le imprudenze, avrà tutte e audace, non si ritrarrà davanti a niente. Parlo delle donne veramente donne, dotate di quello spirito a triplice fondo, che sembra in superficie ragionevole e freddo, ma i cui tre compartimenti segreti sono colmi, l'uno di irraquietezza femminile sempre in agitazione, l'altro di astuzia sotto colore di buona fede, di quell'astuzia da devoti, sofistica e temibile, l'ultimo infine di incantevole furfanteria, di squisito inganno, di deliziosa perfidia, di tutte quelle perverse qualità che spingono al suicidio gli amanti stupidamente creduli, ma che mandano invisibilio gli altri. Quella di cui voglio raccontare l'avventura era una piccola provinciale, insipidamente onesta sino a quel momento. La sua vita, calma in apparenza, scorreva in seno alla famiglia, tra un marito occupatissimo e due figli, che l'allevava da donna irreprensibile, ma il suo cuore fremeva d'una curiosità inappagata, d'una smania dell'ignoto. Pensava a Parigi senza tregua e leggeva avvitamente i giornali mondani. Il racconto delle feste, degli abiti, dei divertimenti, faceva ribollire ai suoi desideri. Ma era soprattutto misteriosamente turbata dagli echi di cronaca pieni di sottintesi, dai veli appena sollevati in abili frasi, e che lasciano intravedere orizzonti di piacere peccaminosi e devastatori. Di laggiù scorgeva Parigi in un'apoteosi di lusso magnifico e corrotto. E durante le lunghe notti di fantasticheria, cullata dal russio regolare del marito, che dormeva a supino al suo fianco con un fazzoletto intorno al cranio, pensava a quegli uomini noti, i cui nomi apparivano sulla prima pagina dei giornali come grandi stelle in un cielo oscuro. Si figurava la loro vita sconvolgente, con dissolutezze continue, con orge antiche spaventosamente voluttuose, e con raffinatezze sensuali così complicate che la non poteva nemmeno figurarsene. Le sembrava che i boulevard fossero una specie di baratro delle passioni umane, e che tutte quelle cose se lassero sicuramente prodigiosi misteri d'amore. Se non che, ella si sentiva invecchiare. Invecchiava senza aver conosciuto niente della vita, tranne quelle occupazioni regolari, vogliosamente monotone e meschine, che costituiscono, si dice, la felicità del focolare domestico. Era ancora bella, conservata in quella vita tranquilla come un frutto invernale in un armario chiuso, ma rosa, straziata, sconvolta da segreti ardori. Si domandava se sarebbe morta senza aver conosciuto tutte quelle brezze dannatrici, senza essersi gettata una volta, una volta sola, tutta intera nel mare delle volutà parigine. Con lunga perseveranza preparò un viaggio a Parigi, inventò un pretesto, si fece invitare ad alcuni parenti, e siccome il marito non poteva accompagnarla, partì sola. Appena arrivata, riuscì ad escocitare delle ragioni che le avrebbero permesso all'occorrenza di assentarsi due giorni o piuttosto due notti, se fosse stato necessario. avendo ritrovato, diceva, alcuni amici che abitavano nella campagna suburbana. E cercò, percorsi boulevard senza vedere nulla, se non il vizio randagio e schedato. Frugò con lo sguardo i grandi caffè, lessa attentamente la piccola posta delle Figaro, che le appariva ogni mattina come una campana a martello, un richiamo dell'amore. E mai nulla la metteva sulla traccia di quelle grandi orge di artisti e di attrici, nulla le rivelava ai templi di quelle dissolutezze che la immaginava chiusi in una parola magica, come la caverna delle mille una notte, e come quelle catacombe di Roma dove si compivano segretamente i misteri di una religione perseguitata. I suoi parenti, piccoli borghesi, non potevano farle conoscere nessuno di quegli uomini in vista i cui nomi le ronzavano in testa, e disperata pensava già di tornarsene via, quando il caso venne in suo aiuto. Un giorno, come percorreva la via Chassodantè, si fermò a contemplare un negozio pieno di quei ninnoli giapponesi, così ricchi di colore che sono una specie di gioia per gli occhi. Considerava i graziosi avori grotteschi e i grandi vasi di porcellana dagli esmati sfavillanti, i bronzi bizzarri, con dell'audì all'interno di una bottega, il padrone, che con una quantità di reverenze, mostrava a un ometto grasso dal cranio calvo e dal mento grigio un enorme Buddha panciuto. Pezzo unico, diceva lui, e ad ogni frase del mercante il nome dell'amatore, un nome celebre, risuonava come uno squillo di tromba. Gli altri clienti, giovani donne, signori eleganti, contemplavano con un'occhiata furtiva e rapida, un'occhiata discreta e palesemente rispettosa, lo scrittore famoso, che da parte sua osservava appassionatamente il Buddha di porcellana. Erano brutti l'uno quanto l'altro, brutti come due fratelli usciti dallo stesso seno. Il mercante diceva, a voi, signor Jean Varin, lo lascio a mille franchi, è giusto quello che costa a me. Per tutti sarebbe mille e cinquecento franchi, ma mi preme la mia clientela di artisti e le faccio prezzi speciali. Vengono tutti da me, signor Jean Varin. Ieri il signor Bousnache ha comprato da me una grande coppa antica. Ho venduto l'altro giorno due candelieri come quelli. Non sono belli? Dite al signor Alexandre Dumas. Vedete, cotesto pezzo che avete in mano. Se il signor Zola lo vedesse, sarebbe già venduto, signor Varin. Lo scrittore molto perplesso esitava, sollecitato dall'oggetto, ma, pensando alla somma, e non si occupava degli sguardi più che se fosse stato solo in un deserto. Ella era entrata tremante, con l'occhio sfrontatamente fisso su di lui, e non si domandava nemmeno se fosse bello, elegante o giovane. Era Jean Varin, in persona, Jean Varin. Dopo essere stato a lungo combattuto e aver pensosamente esitato, egli posò di nuovo la porcellana su una tavola. «No, è troppo caro», disse. Il mercante raddoppiava la sua eloquenza. «Oh, signor Varin, troppo caro! Questo vale largamente duemila franchi!» Il letterato replicò tristemente, guardando sempre il pupazzo dagli occhi di smalto. «Non dico di no, ma è troppo caro per me!» Allora lei, presa da una folle audacia, si fece avanti. «Per me», disse. «Quanto questo pupazzo!» Il mercante stupito replicò. «Mille cinquecento franchi, signora! Lo prendo!» Lo scrittore, che sino a quel momento non l'aveva nemmeno scorta, si voltò bruscamente e la considerò dalla testa ai piedi, da osservatore, con l'occhio socchiuso. Poi, da conoscitore, l'esaminò minutamente. Ella era affascinante, animata, illuminata all'improvviso da quella fiamma che sino ad allora era assopita in lei. E poi, una donna che compra un nennolo da mille cinquecento franchi non è la prima venuta. Lei ebbe allora un gesto di squisita delicatezza, evolgendosi verso di lui, con voce tremante. «Scusate, signore, sono stata probabilmente un po' svelta. Forse non avevate detto la vostra ultima parola.» Egli si inchinò. «L'avevo detta, signora.» Ma lei tutta turbata. «Insomma, signore, oggi o più tardi, se doveste cambiare parere, questo nennolo è vostro. L'ho comprato soltanto perché è piaciuto a voi.» Egli sorrise, visibilmente lusingato. «Come mai mi conoscevate?» disse. Allora ella gli parlò della propria ammirazione, gli citò le sue opere. Fu eloquente. Per discorrere, egli si era appoggiato con i gomiti a un mobile, e piantando su di là i suoi occhi penetranti, cercava di arrivare a capirla. Ogni tanto il mercante, felice di possedere quella pubblicità vivente, essendo entrati nuovi clienti, gridava dall'altra estremità del negozio. «Ecco, guardate questo, signor Jean Varen, non è bello?» Allora tutte le teste si alzavano, ed ella rabbrividiva dal piacere di essere vista così a parlare intimamente con un illustre. Alla fine, inebriata, ebbe una suprema audacia, come i generali che muovono all'assalto. «Signore», disse, «fatemi un grande, un grandissimo piacere. Permettetemi di offrirvi questo Buddha, come ricordo di una donna che vi ammira appassionatamente e che voi avrete visto per una decina di minuti.» Egli ricusò, e la insisteva. Lui resistette, divertitissimo, ridendo di tutto cuore. «Dai», ostinata, gli disse, «ebbene, lo porterò a casa vostra, subito, dove abitate?» Egli rifiutò di dare l'indirizzo, ma lei, avendolo chiesto al negoziante, lo seppe, e pagato il suo acquisto, scappò verso una carrozza. Lo scrittore corse per raggiungerla, non volendo esporsi a ricevere quel regalo che non avrebbe saputo a chi attribuire. La raggiunse quando della balzava in carrozza, e si lanciò, quasi cadde sopra di lei, per la scossa della carrozza che si metteva in moto, poi ne si sedette accanto. Assai infastidito! Ebbe un bel pregare, insistere, e la si mostrò irriducibile. Come giungevano davanti alla porta, ella pose le sue condizioni. Acconsentirò, disse, a non lasciarvi questo, se oggi adempirete tutte le mie volontà. La cosa mi parve così bizzarra che accettò. Ella domandò, «che cosa fate di solito a quest'ora?» Dopo una breve citazione, «vado a passeggio», egli disse. Allora, con voce risoluta, ella ordinò, «al bua!» E andarono. Egli dovette dirle il nome di tutte le donne conosciute, soprattutto di quelle impure, con particolari intimi su di esse, sulla loro vita, sulle loro abitudini, sul loro aspetto interiore, sui loro vizi. «Cadde a terra! Che fate tutti i giorni a quest'ora?» Ella disse. Lui rispose ridendo, «bevo l'assenzio». Allora, gravemente, ella soggiunse, «allora, signore, andiamo a bere l'assenzio». Entrarono in un grande caffè del boulevard che gli frequentava e dove incontrò alcuni colleghi. Li ripresentò tutti. Era pazza di gioia. Egli risonava senza tregua in testa questa parola. «Finalmente! Finalmente!» In tempo passava. Ella domandò, «questa è l'ora di pranzo per voi?» Egli rispose, «sì, signora». Allora, signore, andiamo a pranzare!» Uscendo dal caffè Bignon. «La sera, che fate?» Ella disse. Lui la guardò fissamente. «Dipende, in qualche volta vado a teatro». «Ebbene, signore, andiamo a teatro!» Andarono al vaudeville con entrata di favore, grazie a lui, e, gloria suprema, fu vista da tutta la sala accanto a lui, seduta nel palco di proscenio. Finita la rappresentazione, egli le baciò galantemente la mano. «Signora, non mi rimane che ringraziarvi della giornata deliziosa!» Ella lo interruppe. «A quest'ora, che fate tutte le notti?» «Ma, ma, ma, torno a casa mia!» Ella si mise a ridere ed un riso tremante. «Ebbene, signore, andiamo a casa vostra!» E non parlarono più. Ella, a tratti, rabbrividiva, tutta scossa dalla testa ai piedi, avendo voglia di fuggire e voglia di restare, recando in fondo al cuore una volontà ben ferma di andare sino in fondo. Per le scale, ella s'aggrappava alla ringhiera, tanto il suo turbamento diventava violento, ed egli saliva davanti a lei, ansimando, con un cerino in mano. Appena fu in camera, ella si spogliò svelta svelta, e si infilò nel letto senza pronunciare una parola, e attese rannicchiata contro il muro. Ma lei era semplice, come può esserlo la legittima sposa di un notaio di provincia, e lui più esigente di un gran pascià. Non si intesero per niente. Allora lui si addormentò. La notte trascorse turbata solamente dal tic-tac della pendola, e lei, immobile, pensava alle notti coniugali, e sotto i raggi gialli di una lanterna cinese, la guardava sconsolata al suo fianco, quello metto a supino, a tondo tondo, il cui vento a sfera sollevava il lenzuolo come un pallone gonfio di gas. Rossava con un rumore di canna d'organo, con prolungati ronfi e comici soffocamenti. I suoi venti capelli approfittavano del suo riposo per arruffarsi stranamente, stanchi della lunga sosta fissa su quel cranio nudo di cui dovevano celare le devastazioni. Un sottile filo di saliva gli colava da un angolo della bocca socchiusa. L'aurora finalmente fece trapelare un po' di luce tra le stende chiuse. E la salzò, si vestì senza far rumore, e aveva già aperto per metà la porta, quando fece zigolare la serratura, ed egli si svegliò, strusciandoci gli occhi. Gli ci vogliono alcuni secondi prima di riprendere interamente i sensi. Poi, quando si fu rammentato di tutta l'avventura, domandò. Ebbene, ve ne andate? E la rimaneva in piedi, confusa. Ma albettò. Ma certo, è già mattina. Egli si drizzò a sedere. Su via, disse. A mia volta ho qualcosa da domandarvi. Lei non rispose. Egli riprese. Mi avete maledettamente meravigliato da ieri. Siate sincera, confessatemi. Perché avete fatto tutto questo, poiché io non ci capisco niente. E la si avvicinò lentamente, arrossando come una vergine. Ha voluto conoscere il... il vizio. Ebbene, ebbene, non è divertente. E scappò. Scese le scale, balzò in strada. L'esercito degli spazzini spazzava. Spazzavano i marciapiedi, il selciato, spingendo tutte le immondizie nel rigagnolo. Con lo stesso gesto regolare, con il gesto dei falciatori, nei prati, spingevano davanti a loro a semicerchio il fango. E di strada in strada, ella li ritrovava come burattini caricati, che camminavano meccanicamente con una molla uguale. E le sembrava che anche dentro di lei, di anzi, fosse stato spazzato qualcosa. Possero stati spinti nel rigagnolo, nella fogna, i suoi sogni sovreccitati. Rincasò, trafelata, gelata, serbando nella mente soltanto la sensazione di quel movimento di scope che pulivano Parigi al mattino. E appena fu in camera sua, si inghiozzò.